Dall'emersione della crisi del 2008 ad oggi sono nell'ambito del nostro sistema associativo, quindi parliamo di Confindustria Teramo, se poi dovessimo aggiungere anche le altre categorie datoriali come l'artigianato, il commercio e tutto il resto non saprei dirvi, però per quanto riguarda il nostro sistema associativo dal 2008 ad oggi abbiamo perso 5.000 posti di lavoro, ve li posso sciorinare perché ho l'elenco se volete, abbiamo perso praticamente 370 posti di lavoro nell'emersione della crisi, 750 nel 2009, 351 nel 2010, 203 nel 2011, 633 nel 2012, 700 nel 2013, 845 lo scorso anno e per finire la ciliegina sulla torta 500 nel nel corso del 2015 e siamo alla fine. Iniziative concrete non ne abbiamo, come potete già potrete constatare, certo non vogliamo dare la colpa solo alla politica perché non sarebbe giusto, diciamo che la politica dovrebbe aiutarci anche insieme alla comunità europea a lavorare di più sulla internazionalizzazione e sulle esportazioni, altrimenti il sistema, la struttura industriale italiana non riesce più autonomamente ad evitare questa emorragia che da tanti anni si sta purtroppo verificando. La speranza nostra è che in qualche maniera ci si metta un po' di più di impegno. Nel caso specifico di VECO noi aspichiamo una soluzione ma immediata a questa situazione. La VECO non può lavorare dal 17 settembre di quest'anno. Immaginatevi un'azienda che non può lavorare e quindi non riesce a produrre, non può fatturare, immaginate com'è. È già un miracolo che siamo ancora qui oggi a discutere di questo ma non vorremmo che ancora si protraesse questa sceneggiata perché non è più sostenibile.